Salve amici del Centro Meteo Italiano, con il mese di luglio alle porte vediamo di tracciare una tendenza per il proseguimento della stagione estiva. Gli ultimissimi giorni di giugno saranno caratterizzati da tempo altalenante, un robusto anticiclone delle azzorre è posizionato sull'oceano atlantico. Nel contempo una saccatura depressionaria si sposta tra Mar Baltico ed Europa Centro-Orientale, portando condizioni di maltempo sul nord-est italiano. A cavallo con l'avvio di luglio, i modelli confermano l'arrivo del maltempo. Sia GFS che CMWF mostrano l'affondo di una perturbazione atlantica che porterebbe piogge temporali in Italia. A questo peggioramento sarebbe associato un calo delle temperature che potrebbe avvertirsi in maniera sensibile specie per il prossimo fine settimana. Trattandosi di una tendenza seguite come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.